telebari social night ben trovati adesso prima di dare la palla a silvia vi do un piccolo indizio del tema che andremo a trattare insieme con tanto orgoglio silvia a te io sono libertà io sono pace a questo punto potremmo anche dire secondo spazio dedicato a un libro che ci è piaciuto molto e che è stato presentato oggi ufficialmente si chiama io sono libertà adesso lo guardiamo per bene scritto da valeria patruno che oltre a essere l'autrice del libro si occupa anche di cooperazione europea e qui con noi l'autrice del libro io sono libertà bellissima la copertina e la fotografia buonasera ben trovata buona sera ben trovata e ben trovata lavoro anche all'arti puglia allora io sono libertà ci è piaciuto molto perché intanto è un viaggio nel quartiere libertà la scoperta degli odori mi è piaciuta questa frase lei dice scrive nel libro ogni il quartiere da vivere va ascoltato va annusato e ascoltato è un po quello che ha fatto queste sono le immagini in copertina di alcuni dei segreti racchiusi nel quartiere libertà si possono svelare voglio sapere tutti sarebbe meglio diciamo viverli e soprattutto averne un'esperienza e questo è quello che cerca di fare in parte il libro è quello che ho fatto io vivendo il quartiere libertà sin dalla mia adolescenza io non sono nata nel quartiere libertà però ho trascorso tantissimo tempo nel quartiere ho frequentato il liceo del quartiere e poi sono tornata per scelta acquistando una casa nel quartiere libertà e volendolo fare il mio luogo di vita ecco la protagonista del libro è debora collacca chi è debora debora e e io sono libertà probabilmente più di quanto lo è valeria oggi debora e soprattutto una giovane poi una donna che come me e come tantissime persone ha scelto questo quartiere ecco prego la regia di inviare di farci vedere delle foto che lei ha scelto hanno un significato particolare sì queste foto hanno significato perché sono intanto la prima riguarda una vecchia cartina una vecchia mappa della città di bari il quartiere libertà si è esteso a ridosso di quello murattiano a ridosso del dell'espansione di giochino miurà ed è nato come un quartiere operaio ora la presenza della manifattura dei tabacchi probabilmente nota a tutti è l'esempio più clamoroso di questo e accompagnate queste fotografie sono accompagnate proprio come se fosse un piccolo percorso storico vedete dalla dalle immagini delle targhe sugli alluvioni e infine diciamo quello che oggi un tipico un classico esempio di visione sul quartiere libertà di degrado questo è uno dei tantissimi problemi uno dei tantissime sfide alle quali il quartiere libertà deve con le quali si deve confrontare anche affrontare soprattutto valeria patruno per scrivere questo libro anche incontrato tantissime persone del quartiere libertà una di queste è sicuramente don francesco preite che è stato direttore dell'istituto salesiano del redentore amatissimo nel quartiere adesso è a roma per un incarico nazionale però ha voluto mandarci un messaggio sentiamo ciao amici del quartiere libertà di bari ma cittadini paresi mi ha chiesto silvia di telebari dare un saluto saluto volentieri valeria che ha pubblicato questo bellissimo romanzo che parla proprio del quartiere libertà è sempre bello raccontare le storie di questo quartiere perché crea appartenenza crea attenzione crea anche motivi per impegnarsi sempre di più a costruire un quartiere più inclusivo in una città bella come quella di bari che che saluto davvero con molto affetto ecco mi trovo in un altro oratorio qui a roma alle mie spalle ci sono i ragazzi come ci sono come ci sono quindi al redentore di bari però è ovvio che le espressioni tipiche di quel quartiere mo don france ecco queste certo mi mancano come mancano anche molti volti e molte molti sorrisi che saluto davvero molto volentieri sono riconoscente a bari perché mi sono formato ed è una comunità davvero che ha delle belle basi e delle belle dei bei progetti dei bei sogni per continuare a scrivere storie di speranza storie di riscatto ed è un quartiere molto popolare dove mi sono davvero trovato bene ecco vi saluto davvero con affetto vi ricordo al nostro don bosco e come sempre pace e gioia e anche noi salutiamo don francesco pace gioia non poteva che esserci un saluto più azzeccato in questo momento e valeria i nomi dei capitoli ci sono molto evocativi c'è bosco garibaldi poi si parla di stranieri si parla di bullismo si parla di tante tematiche e si aprono tutti lo possiamo mostrare con dei delle maniera particolare ecco non so se ha voglia di raccontarcelo ogni capitolo si apre con la citazione di un articolo della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e questo è diciamo una volontà esplicita di ricordarci tutti che le libertà fondamentali e questo quartiere ha un nome particolarmente vocativo da questo punto di vista come ci sta mostrando anche andrea in questo momento e queste libertà sono fondamento per la nostra società continuano ad esserlo non lo sono state soltanto nel momento in cui nel 1948 sono state sancite e diventa più urgente che mai oggi come oggi ricordarci fare la nostra parte perché continuino ad essere tali mentre chiacchieriamo con valeria possiamo mandare delle immagini delle fotografie che sono state scattate durante un laboratorio che si chiama libera art organizzato dalla cooperativa alice con area arti espressive ed etnie in cui dei giovani studenti giovani ragazzi tra i 12 e 17 anni con alessandro cariello che questa persona che vedete in foto che è appunto il fotografo sono andati in giro per il quartiere a fotografarlo quale quartiere oggi si può fotografare e viene raccontato anche nel romanzo il quartiere che oggi si può fotografare è un microcosmo è un microcosmo nel quale sono accentrate si concentrano come dicevamo prima delle sfide importantissime per la città di Bari perché è un quartiere che è cuore della città ed è un quartiere che ha vissuto una serie di evoluzioni negli ultimi anni ma anche tantissime involuzioni su queste abbiamo bisogno di confrontarci di confrontarci tutti cittadini amministrazioni media e questo è quello che io mi auguro sia una parte di riflessione ma anche una parte fondamentale di condivisione che parte da un libro da una chiacchierata e anche dalle fotografie allora quartiere con luci e ombre naturalmente facciamo così le ombre le raccontiamo dopo e probabilmente le cronache ne sono piene ci sono anche le luci alcune sono un po soffuse bisogna alimentarle per esempio la nostra Serena Russo è andata a scoprire un bunker sotto proprio sotto la scuola Melo e le sue fotografie sono bellissime adesso magari le guardiamo ed è proprio uno di quei tesori nascosti del quartiere libertà noi intanto ci guardiamo queste immagini mentre scorrono non so magari valeria può dirci tanto se lo conosceva e se ne ha scoperti di altri poi scrivendo questo libro beh intanto sì il bunker sotto la Melo è sicuramente una perla per andare alla scoperta diciamo di questo quartiere che è poco noto in realtà soprattutto quando si tratta di tesori indubbiamente io ho scoperto per sincerità devo dire soprattutto dei tesori umani nel quartiere libertà tantissimi tesori umani che sono diventati per me non solo il patrimonio importante per raccontare una storia ma sono diventati un patrimonio importantissimo per la mia esperienza professionale umana e credo che questo sia una cosa straordinaria io voglio solo ricordare guardando proprio queste immagini mi viene in mente questa bellissima mostra che è stata allestita proprio intorno alla minifattura dei tabacchi che ritrae appunto i volti del quartiere libertà per dire che appunto oltre queste bellezze oltre i palazzi liberty che possiamo tutti ammirare se non fossimo come dire impegnati magari a guardarci intorno a cercare di schivare una buca o a calpestare qualcosa per strada e ci accorgeremo anche sia delle bellezze architettoniche che di quelle umane a proposito di bellezze umane beh ce ne sono tante di persone di eccellenze nel quartiere libertà di persone anche pluripremiate e sempre la nostra serena russo ha intervistato luca bratta che è un impreditore del food potremmo dire ha una salumeria e no e una piccola enoteca che ha ricevuto tanti premi allora l'ho intervistato è una piccola grande storia di riscatto sentiamo a soli 32 anni eppure sa perfettamente che negli anni 70 il primissimo spritz almeno a bari si preparava unendo sapientemente primitivo di manduria gioia del colli al massimo e gazzosa lo crea davanti ai nostri occhi con la maestria di chi lavora con passione da anni luca bratta si muove nel suo locale il b89 con la sicurezza dei grandi sorride fiero dei risultati raggiunti ci mostra il suo poker dei riconoscimenti così lo chiama ancora una volta la sua attività si è infatti guadagnata un posto nel golosario 2022 la guida in cui sono recensiti i migliori locali d'italia tutto frutto della passione di luca dicevamo che ci spiega come la scelta dei prodotti possa fare la differenza e la sua vittoria anche una marcia in più il b89 infatti nasce e cresce in una delle zone con la più alta percentuale di saracinesche abbassate siamo in via crisanzio a due passi dalla chiesa redentore luca in un quartiere in cui come tu dicevi poco fa c'è una sorta di record di saracinesche abbassate tu rappresenti davvero un'anomalia perché non solo sei qui presente da tanto tempo ma quest'anno hai raggiunto come detto tu il poker dei riconoscimenti riconoscimenti sì siamo rimasti a rappresentare la la guida il golosario in due io e il signor nicola perini il salumaio è un diciamo un maestro dell'enogastronomia e sì abbiamo fatto il poker abbiamo preso quattro riconoscimenti in in tre anni negli anni più difficili forse del commercio italiano gli anni della pandemia e speriamo di puntare sempre più puntiamo sempre più in alto per prendere riconoscimenti anche perché vogliamo portare la puglia sul podio la puglia è il quartiere libertà sul podio bravo bravissimo luca valeria quali sono però le ombre perché certamente ci sono le conosciamo e le avrà ritrovate di ombre ovviamente ce ne sono tante non riguardano soltanto le questioni legate al degrado ma soprattutto anche quelle al disagio sociale il quartiere libertà è un quartiere che soffre tantissimo di un sovraffollamento edilizio e abitativo in generale per il quale è necessaria pensare una riqualificazione importante una rigenerazione importante questo è un obiettivo primario che credo debba stare veramente a cuore a cuore di tutti inoltre è chiaro che le sfide che ci pone la cosiddetta multietnicità è una sfida che può essere sicuramente un'opportunità importante per una città come Bari il quartiere libertà rispetto alle ombre che oggi vive io sono certa potrà avere con l'aiuto di tutti un futuro di grande luce ne siamo certi anche noi allora Andrea non ho spaccato social però del quartiere libertà assolutamente sì adesso andiamo nella parte social però devo dire che sono all'oscuro di tutto nel quartiere libertà ha addirittura un proprio hashtag sì sì we are libertà we are in Puglia c'è diciamo quello mainstream però c'è anche we are in libertà allora vediamoli oggi tu hai le lenti a contatto quindi mi aiuterai libertà iniziative sociali per la comunità via Crispi dopo le 23 zan zan queste sono le meme diciamo responsabilità di Marco Montrone il nostro autore che li ha scelti sicuramente starà pensando ad un'altra perché il ponte adriatico non è stato chiamato ponte da do da a da? da do a da perché ricorderete tutti che quando si è scelto il nome del ponte adriatico è stato fatto un sondaggio pubblico ed è venuto fuori qualcosa di incredibile come nomi dove abiti? a libertà questa l'ho recitata meglio Silvia bellissima la mia maestrina pure di recitazione ultima ce n'è un'altra quando lei ti dice che vive in un quartiere pericoloso ma tu sei del libertà ah ah tipo te ne infischi ne hai viste di ogni esatto esatto questo è il senso se le ha capite Andrea le hanno capite tutti e le avrete capite tutti da casa ce n'è un'ultima questa la faccio vedere io vai recitala quartiere Miura una figacchiona che cammina il turista che si gira a guardarle e poi quartiere libertà la fidanzata che mena uno scappellotto dai sono simpatiche allora grazie a Valeria Patruno Valeria ma chi le ha recitate meglio io Silvia entrambi, siete stati veramente fantastici entrambi grazie vi invito al quartiere libertà per recitarle va bene allora facciamo vedere ancora una volta il libro Valeria intanto da oggi è disponibile edizione edizione, casa editrice, scatole parlanti e oggi lo trovate in libreria Valeria Patruno io sono libertà grazie mille per essere stata con noi grazie a voi, grazie a tutti e a tutti voi invece restate con noi piccolo break poi ci lanciamo nel mondo degli youtuber a tra poco grazie a tutti